Vento in poppa per i quattro candidati alla carica di sindaco in altrettanti comuni della provincia ma se per tre di questi la gara è stata apparentemente più semplice con il quorum del 40% superato già la chiusura dei seggi nella prima giornata di voto, per Sindy Manusci, giovane avvocata bellunese, la tensione ha mollato la presa solo questa mattina e così è l'esponente di Pieve Futura a vincere la sua corsa solitaria che la consacra nel ruolo di sindaca di Pieve di Cadore. Nel paese del Tiziano l'affluenza è stata del 48,31% contro il 53,77% di cinque anni fa ed è tutto sommato il dato più basso registrato fra i quattro comuni al voto. Manusci è la seconda donna a indossare la fascia di sindaco a Pieve di Cadore dopo la passionaria Maria Antonia Ciotti. A Canale d'Agordo gli elettori hanno premiato la proposta di Massimo Murer già vice sindaco nella consigliatura guidata da Flavio Colcernian. L'affluenza nel paese di Papa Luciani ha superato di quattro punti percentuali quella della precedente tornata, 62,42%, un vero e proprio record in provincia. A Cencennighe per la terza volta consecutiva gli elettori hanno dato fiducia a Mauro Soppelsa che diventa sindaco grazie a un'affluenza pari al 57,57%, anche in questo caso quattro punti in più rispetto a cinque anni fa. Boom di elettori anche a Sospirolo che ha fatto registrare quasi il 10% in più dei votanti. Alle urne per la riconferma di Mario De Bonna si sono recati il 56,81% degli aventi diritto al voto. Auguri di buon lavoro ai quattro nuovi sindaci bellunesi e una riflessione sono arrivati dal presidente della provincia Roberto Padrine. C'è una disaffezione non solo ad andare a votare ma anche a chi si assume la responsabilità di avere degli incarichi istituzionali e devo dire che in previsione soprattutto della grande tornata elettorale del 2024 dove oltre una trentina di comuni bellunesi andranno al voto sicuramente questo ci preoccupa. C'è bisogno di persone che si mettano a disposizione delle loro comunità e quindi dobbiamo fare uno sforzo tutti per cercare di creare i presupposti affinché queste persone si possano candidare e possano guidare i loro comuni. Grazie a tutti.